Linter, dai dai dai, ma io la consegniamo io stesso, io la consegnare, grazie. Maglietta della Nazionale Svizzera, maglietta della Nazionale Svizzera, conosci qualcosa di una mangiata della Nazionale Svizzera, arancene 2785, arancene 285, compagnia hai già vinto un'altra volta tu, che mai avete vinto io? No, d'accordo, altro numero, cambiamo il pilone, arancene 290, quindi Daniele Compagni di Locarno, al quarto posto si è classificato l'Unione Sportiva Monte Carasso. Siamo qualcuno di 14. Terzo. Gusta raga, bravi! Vai, Mattia, bello! Bello! Gusto! Vai, grazie! Ciao, Sabe! Ciao, Leo! Dai, Michele, noi aiutiamo! Per la mente bollino, però... Poco non è... Ci fanno davanti! Tira, Mirko! Dai, ragazzi! Grande, Mirko, sì! È giusto, Mirko! ... Ce ne sono passate! Hai, poți! Stежali Mirko! Gia, quanti ti sono? Gia, altru a x-ai! Ti hai messo male? Ferma tutto, Sabe, hai! Ferma tutto! Hai messo male! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti